Ben trovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione regionale di Canale 81 Lazio. Iniziamo a vedere allora quali sono i fatti principali di questa giornata. Iniziamo da un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Pontina che è stata temporaneamente chiusa al traffico in seguito ad un incidente che si è verificato in direzione Roma. Dalle informazioni a disposizione si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolti due veicoli all'altezza del chilometro 42 nel territorio di Aprilia. Nel corso delle operazioni sul posto è intervenuta anche l'eleambulanza per i soccorsi ad una donna di 52 anni che si trovava a bordo di uno dei due mezzi e che ha accusato un malore legato ad un suo precedente problema di salute. Sul posto anche la polizia stradale. Passiamo ora a Latina. Il Comune ha disposto la chiusura del bar del Circolo Cittadino di Latina e la rimozione immediata di tutti gli arredi che sono stati posizionati nell'area sotto al portico della struttura di Piazza del Popolo. Una specifica ordinanza è stata firmata dal dirigente del Servizio Attività Produttive. La ditta esercitava nel locale di Piazza del Popolo un'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il prescritto titolo autorizzativo. Come si legge nell'ordinanza la stessa ditta occupava sempre senza titolo autorizzativo un tratto di suolo privato. Parliamo ora dei disagi arrecati ieri ai passeggeri alla stazione Termini per un incidente che si è verificato a Firenze con un carro merci deragliato. Fortissimi disagi con centinaia di passeggeri, molti pendolari, bloccati sulle banchine per il traffico ferroviario paralizzato. Molti chiedono informazione, grandissima confusione. Fin dall'alba centinaia di persone hanno aspettato dunque l'arrivo del proprio treno e poi sono potuti ripartire. Parliamo ora di impianti sportivi comunali morosi nella capitale. Sono 119 gli impianti sportivi di proprietà comunale che sono presenti a Roma. Di questi 18 sono quelli chiusi. Tra le strutture in funzione la gran parte sono state affidate a concessionari che sono puntuali nel corrispondere i canoni di locazione e le rate di mutui di cui Roma Capitale si è fatta garante. C'è però chi non lo fa e crea un danno economico all'amministrazione e quindi alla città. Delibere a parte il conto è presto fatto. Sono 63 i concessionari virtuosi. È stato più volte rimarcato durante la commissione Trasparenza. Ed è stato approvato dalla Giunta Capitolina lo schema di convenzione tra Roma Capitale, Città Metropolitana e Anas per la manutenzione straordinaria della viabilità principale delle strade di penetrazione. Con 200 milioni di euro di fondi giubilari le vie consolari saranno sottoposte a un importante rifacimento della pavimentazione e delle principali infrastrutture stradali. I cantieri saranno aperti entro l'estate. 800 chilometri di arterie di Roma saranno completamente riqualificati. La Roma è in semifinale di Europa League. I giallorossi all'Olimpico vincono 4-1 e i supplementari eliminano il Fai e Nord. La Roma parte bene con un forte pressing, una buona gamba e mentalmente è dentro al match. Proprio la testa è stata la forza della Roma che dopo essere passata in vantaggio con Spinazzola non crolla dopo il pareggio di Paitzau a 10 minuti dalla fine. Il gol olandese non piega gli uomini di Murigno che riprendono la partita con una perla di Dybala. E nei supplementari mettono la freccia con El Sharawi che finalizza una perfetta azione corale e Capità Pellegrini che firma il 4-1. In semifinale la Roma affronterà il Bayer Leverkusen. Questa per oggi è la nostra ultima notizia per questa edizione del Tg regionale. Come sempre vi invito a restare su canale 81 Lazio.